Attrazione e dubbi al Grande Fratello 2023, Greta si confida con Massimiliano su Sergio. Ciao amici, oggi voglio parlarvi di un gossip fresco fresco direttamente dal Grande Fratello 2023. Pare che Greta Rossetti si sia confidata con Massimiliano Varrese riguardo alla sua relazione con Sergio Dottavi. La situazione sembra interessante, con Greta che spiega a Massimiliano le ragioni dietro la decisione di non voler accelerare con Sergio. I fan sembrano essere molto coinvolti in questa storia, mandando messaggi che fanno riflettere Greta. Lei stessa si è detta confusa riguardo al significato di alcuni messaggi che le sono arrivati, come torna in te, tu sai o vivi libera. Insomma, sembra che ci sia qualcosa che Greta non ha ancora capito appieno. Massimiliano, davvero amico, ha ascoltato le preoccupazioni di Greta e le ha dato dei consigli preziosi. Ha sottolineato l'importanza di essere decisi e coraggiosi nelle proprie scelte, evitando di rimanere neutrali. Insomma, sembra che Greta abbia bisogno di fare chiarezza con se stessa prima di prendere una decisione definitiva. Greta ha poi espresso delle perplessità riguardo a Sergio, sottolineando che non è sicura di voler accelerare la relazione. Sembra che ci siano delle reazioni da parte di Sergio che non la convincono del tutto. Secondo Greta, Sergio prova solo una forte attrazione fisica nei suoi confronti, ma poco altro. Insomma, sembra che la situazione sia piuttosto complicata. Massimiliano, però, ha un'opinione diversa e sostiene che ci sia qualcosa di più profondo tra Greta e Sergio. Anche se Greta ascolta le parole di Massimiliano, i suoi dubbi restano. Forse ha bisogno di prove più concrete per capire cosa realmente provi per Sergio. Insomma, la storia tra Greta, Massimiliano e Sergio sembra essere piena di incertezze e dubbi. Solo il tempo potrà dire cosa riserverà il futuro per questi tre ragazzi. Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi. Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.